ecco qua ecco qua sto gas guarda che sono un po' arrabbiato non posso farsi niente ho la malattia qualche buono qualche cuore qualche cuore non sto morendo sta morendo e come fa mentre lo sta morendo che qualche buono sta già morendo si chiama rosa quella si chiama rosa non ha pipato niente pipato zero ovviamente si stanno curati così ma che male che sto aiutato aiutate aiutate e poi lo faccio tutto cos'era brasile dove sei stato cazzo che mi hai dato era una trampola è più anche io cazzo grazie a dove stai andando a far casino come stai andando come stai andando a mani al sushi oh ma e a me non ci pensi portami le medicine va portami le medicine porco due ma che cazzo sta morendo come medicina oh andiamo questo deve a parlare via e dai gli facciamo e staccare il cazzo questo lo dico subito parla parla c'è ma sta a farlo si cazzo c'è ma non mi ha rotto il cazzo parla 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 ma quale mano ma quale mano va a mano mi dà no no ah non ce la faccio non ce la faccio fatti la mano ti chiamo dopo ti chiamo dopo mi scoppia la testa mi scoppia la testa mi scoppia la testa è dopo mi scoppia la testa vado a mano vado a mano oddio che sto male chissà che cazzo non la ti ho presa aiutatemi sto malissimo chiamo subito il mio medico il sommo Fabio ciao 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 Grazie.